Valorizzare il pesce locale di stagione e recuperare le tradizioni culinarie del mare. Questo è l'obiettivo di Le Stagioni del Mare dalla Rete al Piatto, manifestazione che si svolgerà sino al prossimo 12 marzo. 25 i ristoranti della provincia di Chieti coinvolti che in questa terza edizione dedicata all'inverno propongono menu a prezzi vantaggiosi in abbinamento a vini di qualità. Dopo il grande successo delle prime due edizioni dedicate all'estate e all'autunno, gli chef della costa dei Trabocchi si cimentano con una nuova lista di pesci locali di stagione, dalla triglia alla ricciola, al pagello, alla rana pescatrice, allo sgombro, al rombo chiodato, al polpo e via con altre specie di indiscussa qualità. L'iniziativa è promossa dal flag Costa dei Trabocchi in sinergia con Slow Food Lanciano, Conf Commercio, Confesarcenti, con il coinvolgimento degli operatori della ristorazione e gode della sponsorizzazione dell'azienda Codice Citra con i vini della linea Ferzo Wine. La terza edizione del progetto è stata presentata nel corso di uno show cooking svolto alla Red Academy di San Vito con il coinvolgimento di alcuni dei ristoratori che hanno aderito alle iniziative, le cui appetitose creazioni sono state giudicate da una giuria composta da giornalisti. Il presidente del flag Costa dei Trabocchi, Franco Ricci. Dopo queste due stagioni che abbiamo fatto abbiamo visto un interesse che aumenta stagione dopo stagione da parte sia dei ristoratori che da parte dei clienti, di quelli che vengono a degustare prodotti ittici e che vengono preparati sapientemente dai cuochi perché sono molto brave. Quello che abbiamo detto a loro è quello di adoperare solo ed esclusivamente pesce locale di stagione e che proviene appunto da queste barche che hanno una capacità di allontanarsi dalla costa molto relativa e quindi diciamo proprio di stagione perché magari le barche più grandi possono arrivare oltre. Il secondo è di adoperare anche i prodotti agricoli, quelli della terra, sempre di stagione e adoperare dei vini autottoni e soprattutto noi abbiamo una collaborazione con Vinicitra, quindi ha messo questi Vinicitra a disposizione la linea Ferso Wine che sono dei vini prestigiosi. L'interesse sta crescendo quindi noi siamo orgogliosi di questo perché comunque andando avanti sicuramente si accrescerà la consapevolezza di mangiare pesce a chilometro zero, noi diciamo a miglio zero perché siamo marittimi o marinai e dobbiamo anche portare questo concetto anche nelle scuole perché oggi nelle scuole si mangia tutt'altro che pesce fresco proveniente chissà da dove, un esempio il pangasio che viene dal sud-est asiatico nel fiume Megong, un pesce che secondo me calcolando l'inquinamento che c'ha questo Megong francamente di tutta sta freschezza non ce n'ha. Quindi ecco riportare anche nelle scuole il consumo di pesce freschissimo nostro e di stagione. Le stagioni del mare è una manifestazione sempre più conosciuta e apprezzata nel nostro territorio e anche oltre. Grande interesse nei confronti di questo progetto che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare i ristoratori a utilizzare il pescato del nostro mare e dall'altro i consumatori a conoscere e riconoscere in futuro il pesce fresco e locale. Il direttore del flag Valerio Cavallucci. L'inverno che stagione è per il consumo del pesce? Il mare cosa regala? Ma il mare regala i suoi prodotti tutte le stagioni, è come la terra, come la terra regala ogni volta cose nuove, sta a noi interpretarlo nella maniera giusta, saper fare gli abbinamenti giusti, avere un po' di fantasia. Noi dobbiamo uscire da degli stereotipi, gli stereotipi sono quelli di lavorare sempre con gli stessi pesci, sempre su una domanda standardizzata. In realtà abbiamo un patrimonio tutto da riscoprire, le stagioni del mare fin dal titolo vogliono andare in questa direzione, riscoprire questo grande patrimonio ittico, le sue potenzialità, la tradizione culinaria che si è stratificata nel tempo, che oggi ha nuove interpretazioni con gli chef e insomma avere allo stesso tempo una rilettura della tradizione ed una interpretazione moderna. Promuovere nuove consapevolezze e portarle anche a casa nella quotidianità della cucina. La gente come recepisce questo messaggio? E questo è un lavoro da fare, è un lavoro che abbiamo appena iniziato in realtà. Vede, le stagioni del mare in realtà sono anche un grande tentativo di fare dell'educazione alimentare. Allora chi viene, vede, gusta e quindi immediatamente ha la capacità poi di reinterpretare a casa. Come già diceva Franco Ricci vorremmo legare a questa attività che facciamo con i ristoratori, una vera e propria attività di educazione alimentare nelle scuole. Combinando questi due elementi, le famiglie nei ristoranti, la comunicazione con i ragazzi, l'educazione alimentare e speriamo di portare dei risultati duraturi nel tempo. Facendo cadere anche il triste stereotipo del pesce povero, solo di nome ma non di fatto. Assolutamente, prima di tutto è un pesce molto ricco di capacità nutrizionali, ma poi abbiamo visto che poi anche dal punto di vista delle interpretazioni del gusto non ha nulla da invidiare a pesci più blasonati. L'elenco di tutti i ristoranti aderenti all'iniziativa e i relativi menu proposti sono disponibili sul sito internet www.lestagionidelmare.it. Per quanto riguarda Slow Food, parola a Raffaele Cavallo, anche consigliere del FLAG. Dopo tre anni è possibile tracciare già un bilancio? Siete riusciti a creare nuove consapevolezze, a lanciare questo messaggio chiaro che promuovete da tempo? Ce l'auguriamo, ci auguriamo che quest'iniziativa che si deve votare al FLAG abbia sedimentato una migliore cultura alimentare in tutta la popolazione anche grazie al vostro contributo perché chiaramente queste cose poi vengono raccontate al meglio rischiano di avere delle ricadute positive. Per cui ci auguriamo di averci entrato questo obiettivo, noi abbiamo fatto tre stagioni, la prossima stagione con la quale chiuderemo l'iniziativa sarà poi a primavera inoltrata, mi auguro che insomma, ripeto, di aver sedimentato una migliore cultura alimentare legata al mondo della pesca. Ecco, una cultura alimentare che si deve diffondere al consumatore ma deve coinvolgere necessariamente anche il ristoratore? Questa manifestazione è stata voluta da noi avendo come un partner in Italia il mondo della ristorazione perché è un mondo che ha un savoir-faire storico consolidato. In queste edizioni ci sono 26 ristoranti spalmati da Francavilla fino a Vasto. Per cui grazie a loro, alla loro capacità di interpretare al meglio i prodotti del mare abbiamo, credo, potuto dare l'opportunità a chiunque andrà nei ristoranti nei 15 giorni dedicati nella manifestazione per capire come si può al meglio non solo degustare ma anche riproporre a casa. In tal senso invito tutti, anche quelli che non andranno al ristorante in questi 15 giorni a usare i nostri social, dal sito internet, dalla pagina Facebook, per scoprire le ricette dei ristoratori e cosa possono fare con il pesce legato al momento, a questa stagione, al mare Adriatico. Anche l'inverno fornisce una straordinaria varietà di pesce, sempre di ottima qualità. Sì, assolutamente sì. Ogni stagione. Come ogni stagione ed è un messaggio che vogliamo dare anche per un rispetto ambientale, insomma cerchiamo di usare i pesci che vengono pescati in quel momento dell'anno anche per evitare un'inutile dispersione di risorse ittiche a mare quando invece la stagione non lo consente. E adesso alcune ricette proposte. Le stagioni del mare appuntamento con l'inverno, anche se ci avviciniamo a rapidi passi verso la primavera e siamo a Lanciano, nel cuore della città del centro storico, nel ristorante storico, in uno splendido palazzo della Corona di Ferro, con Giovanni Magnacca. Esatto. Giovanni preferisce farsi chiamare Cuoco e non Chef, perché? Vabbè, noi siamo italiani, teniamoci i termini nostri, siamo cucinieri, ha detto la cucina, non siamo responsabili di grosse brigate, quindi per questo amiamo farci chiamare cuochi. E mi piace, mi piace chiamarti cuoco, appassionati del buon cibo perché il cliente merita assoluto rispetto. Soprattutto. Data anche la mia stazza. Fammi vedere, va bene. Si vede che sono avanti del buon cibo. Avanti del buon cibo, quindi anche una garanzia per il cliente. Allora, le quattro stagioni del mare, le stagioni inverno, cosa ci prepari oggi? Oggi prepariamo una tagliata di polpo con un tortino di patate, broccoletti e ventricina del Vastese. Ventricina del Vastese? Io, essendo originario di Castiglione Messer Marino, quindi, alto Vastese, tengo a portarmi con me sempre un cimelio di quello che ricorda la mia infanzia, quindi la ventricina, cerchiamo di abbinarla a prodotti ittici. Prodotti ittici che riguardano l'inverno, perché il polpo, ecco, soprattutto autunno-inverno, è un cefalopode che troviamo soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Pollusco cefalopode, è un polpo verace? Polpo verace, sì. Assolutamente verace, verace. Lo riconosciamo anche dalla doppia fila di ventose, polpo che fa all'incirca un chilo, un chilo e due, viene cotto in acqua bollente, circa 25 minuti per chilo e dopo di che è lasciato raffreddare nella sua stessa acqua, così otteniamo una tenacità maggiore alla carne. A proposito del polpo, va veramente sbattuto prima di consumarlo? Sì, per stenerire le fibre, sì. Come va sbattuto con degli attrezzi particolari? O lo sbattono i marinai appena lo pescano sugli scogli, oppure è un lavoro che tocca fare a noi con il matterello. Ci mettiamo sul banco e gli diamo giù pesante. E poi? Dopodiché, niente, viene pulito, come abbiamo detto prima, è cotto. Questo qua è già stato lessato, adesso lo andremo a scottare, su una padella antiaderente lo facciamo a brustolire un pochino e lo accompagneremo con un tortino di patate, un tortino di patate fatto con patate rosse di Avezzano, lesse, adesso andremo a schiacciare, condite con olio extravergine d'oliva, del sale aromatico con rosmarino, pepe nero, salvia e timo, viene ridotto, schiacciato con la forchetta, gli diamo la forma di un tortino rotondo e lo andremo a cuocere in forno irrorato con del burro di cacao. Dopodiché passeremo ai broccoli, anche essi già lessati in precedenza, li andremo a saltare e li andiamo a condire con un olio aromatizzato alle acciughe e peperone secco e infine metteremo la ventricina arrostita sopra e andiamo a irrorare il tutto con una riduzione di monte pulciano da abruzzo. Un piatto particolarmente elaborato? Sì, un piatto che ha uno studio dietro, quindi cerchiamo di dare un connubio al mare e monti per dare questa robustezza. Andiamo a chiudere con la ventricina e il monte pulciano, quindi un piatto può sembrare aggressivo però di un'eleganza unica. La gente apprezza? Sì, 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 molto. Apprezza più il pisce, più il polpo o più la ventricina? No, apprezza proprio il connubio tra mare e montagna. La ventricina, quella tipica del Vastese? La tipica del Vastese, infatti la vediamo, che è fatta a pezzettoni grossi e non si taglierà mai a fettine, però andrà sfaldata proprio nel piatto. Ricordiamo Porcolandia, il museo del maiale a Carpineto Sinello? Sì, Carpineto Sinello, Wilmi, Cercarunchio, che hanno l'Accademia della Ventricina, sono paesi con una forte vocazione verso il maiale. Senti, ritornando alla Corona di Ferro, che locale è? Questo è uno stabile antichissimo, vero? Sì, locale è antico, palazzo settecentesco, abbiamo le prime immagini dell'albergo risalente alla Corona di Ferro, risalente a fine 800, inizio 900, dopodiché è stato dismesso come albergo e negli anni 80 è stato rivalutato di nuovo come ristorante. Possiamo vedere la sala affrescata, affreschi originali del Settecento, l'abbiamo lasciato così com'era. Tutti felici e contenti con questo piatto che, a proposito, con quale vino abbiniamo? Mare e Monti? Il gusto robusto della Ventricina, con quello più delicato del polpo verace? Un vino rosso, più robusto e strutturato? Un bianco? Sì, un pecorino superiore di Cantina, Citra, un vino che secondo me può star bene sia con la Ventricina che con il polpo. Nelle quartiere Sacca, uno dei quattro quartieri storici di Lanciano e nella taverna Anxa con la chef, la signora Cinzia, Cinzia Di Silvio. Buongiorno signora Cinzia. Buongiorno a lei. Come si va? Benissimo. A lei piace far da mangiare per passione? Tantissimo. Dalla più tenera età avevo sei anni e i miei genitori erano contadini, quindi mia sorella si sposò e mia mamma mi lasciava a casa con un compito, quello di far ritrovare da mangiare perché avevano gli operai eccetera eccetera eccetera. Quindi impastare è la mia passione, sto in mezzo alla farina praticamente da quando avevo sei anni e niente, sono cresciuta con questa passione e la sto tirando fuori negli anni e che dire, spero di fare cose buone. Abbiamo visto infatti mani sapienti, impastare e fare come si faceva una volta, i cavatelli, mani d'oro come la terra da dove viene, la terra d'oro, perché avete investito a Lanciano ma siete di vasto. Sì esatto, siamo vastesi e siamo venuti qui a Lanciano, spero vi faccia piacere. Sicuramente, vasto, strettamente legato al mare Adriatico, quindi al pesce ma anche l'alto vastese strettamente legato ad un prodotto tipico che è la ventricina del vastese. E infatti il piatto che proponete oggi prevede tutti questi ingredienti. Prevede un piatto che andiamo ad accostare mare e terra. Andremo a creare un cavatello al Montepulciano dove andremo ad aggiungere della rana pescatrice, della ventricina dell'alto vastese croccante e poi tutti gli altri ingredienti che sono aglio, cipolla di tropea, prezzemolo, basilico, pomodorini e il fumetto ricavato ovviamente dalle lische della pescatrice. Perché la pescatrice che qualità ha? La pescatrice per me è un pesce... Robusto? Esatto, però nello stesso tempo molto delicato, quindi associato alla ventricina che comunque diciamo non è così leggera, però è un accostamento che vi posso garantire piace tantissimo, ha avuto molto successo, spero che vi piacere anche a voi dopo perché ve lo farò assaggiare, fra un attimo. Allora, la preparazione, cosa prevede? Andremo semplicemente a mettere dell'olio evo nella padella, un po' di aglio, un po' di cipolla e la pescatrice. La lasciamo un attimino rosolare, andremo a sfumare con del vino bianco e subito dopo averlo fatto sfumare, aggiungeremo dei pacchino, prezzemolo e basilico, cavatelli, saltiamo il tutto e poi dopo andremo a mettere nel piatto finale, cioè la parte finale, la ventricina croccante. Un piatto da abbinare con quali vini della linea Ferzo-Citra? Ci mettiamo un rosso, ci mettiamo un cerasuolo, ci mettiamo un bianco? Io ci metterei un bianco, poi dipende dai gusti. Anche un cerasuolo? Anche, anche. Montepulciano forse no? Direi di no, però ripeto i gusti sono gusti. Se fosse solo ventricina, allora sì. Sì, infatti, infatti, infatti. L'ultima, le stagioni del mare, quanto è importante riscoprire il prodotto tipico e mangiare a seconda di ciò che la natura offre in base ai cicli proprio della natura? È importantissimo per me, infatti la mia cucina la ritengo salutare perché cerco di usare un po' tutti i prodotti del periodo e sinceramente del posto per quanto possa, per quanto ci riusciamo, insomma. La gente apprezza? Tantissimo, tantissimo, tantissimo.